Questo video è sponsorizzato da Wizard of the Coast perché per quanto i miei video siano gratis il cibo non lo è se devo vendere il mio talento comico, artistico, tonico e attillato tanto vale farlo per qualcosa che mi piaccia almeno quanto il mio paio di pantofole fluffose Sai cosa mi frulla il barbagallo? Ho le carte Sono piccole, ti stanno nel portafoglio e le puoi usare per evocare un coniglio infernale dai baratri infuocati dell'altro mondo per uccidere la tua nemesi sconfiggendo quella stupida pecora che fa ostruzionismo Diventerai una coperta appena avrò finito con te, merdina supponente Non è ancora il tuo turno? Va bene Stavolta hai vinto tu pecora bloccante Vabbè appena non ci sarai più finalmente vedrai il mio enorme mazzo pazzo cazzo uombo combo tutti i frutti nuclearizzante che ci ho messo anni a metterlo Oh little Benvenuti a una pessima guida su Magic the Gathering Il gioco è semplice tu e il tuo avversario avete dei numeri mettete altri numeri sul campo e azzuffate questi numeri chi fa sparire i numeri dell'altro prima vince e poi si va a mangiare ciambelle non lo so Le magie e le creature nella tua mano sono dei gold digger e non usciranno con te chiedendo per favore ma dovrai prenderli per il tentacolo e offrirgli una proprietà terriera giocando una terra Più terre hai più gente grossa potrai evocare ma per tua informazione queste carte sono pignole più di un bambino che non vuole che il suo pollo tocchi il purè di patate Quasi ogni carta richiede un colore quindi se vuoi che quella fenice dell'arcolampo venga alla tua grigliata sarà meglio avere della tappezzeria rossa altrimenti dirà a tutti i tuoi amici che non hai affatto gusto per l'arredamento Ci sono cinque colori ognuno sviluppato su uno stile di gioco Il bianco è perfetto per ammassare truppe più di quanto tu accumuli faccende di casa e come quelle faccende diventeranno sempre più numerose e problematiche più tu le ignorerai Finché non sarà troppo tardi conquisteranno il mondo e bandiranno tutti i mazzi mill Il blu è se vuoi essere una specie di James Bond e rovinare i pieni del tuo nemico con una delle mille carte della tua batticintura Lancia una magia per distruggere la tua creatura E invece no Il verde è avere abbastanza terre per evocare Pier Grosso von Gigante per devastare le creaturine che ti stanno tra i piedi mentre ridi trasformandole in macchie di sangue sui tuoi tappeti Il nero è per il signore del male dentro ognuno di noi a cui piace buttare le nostre pedine sacrificabili più di quei multivitaminici che ti dimentichi di prendere Ed è perfetto se sei un edgelord che vuole fare patire al nemico le tue stesse sofferenze distruggendo anche le sue carte E il rosso che è il mio preferito perché puoi giocare veloce e buttare giù carte come se stessero per spoilerarti un film che non hai ancora visto Sbrigati che voglio giocare sto minotaur e spaccarti ancora la faccia non sono impaziente tu lo sei E queste sono le basi che tutti possono capire ma da lì il gioco si fa più complesso e strategico Un po' come continuare a vederti con i tuoi amici senza effettivamente farlo Magic è il nonno dei giochi di carte collezionabili e l'essere in circolazione da così tanto tempo vuol dire che hai una ciclopata di carte tra cui scegliere Vuoi fare un mazzo basato sull'ignorare il nemico manco fossi una celebrità tra i paparazzi Un mazzo sul resuscitare i mostri e trasformare il campo in una versione fantasy medievale di thriller O un mazzo su quanti biscotti esplosivi riesci a lanciare Cosa? Non ci sono carte che te lo fanno fare Gli do due anni prima di mettere una carta simile Ogni intanto è bello sfidarsi con qualcuno a lanciarsi carte ben disegnate in faccia finché non muoiono per ferite da tagli da carta Quindi fatti un mazzo e dacci dentro Ci sono carte da collezionare e simpatici nemici da annichilire Ricordati di essere gentile e rispettoso così è più probabile che ti sfidino ancora e tu li sfondi di nuovo con le tue strategie e il tuo unicorno ispiratore Sì c'è un unicorno ispiratore nel gioco e allora? E ora sai come giocare a Magic? Scarica Magic the Gathering Arena per giocare su PC Link in descrizione Non c'è di che